buongiorno a tutti spero mi sentiate anche me e benvenuti a questo corso come c'è Gabriella che ringrazio per la presentazione questo corso di quattro di quattro webinar relativi a python e la data science e ci tengo subito a diciamo specificare alcune cose data science è un termine veramente generalissimo e che racchiude al suo interno tantissimi tantissimi concetti tantissimi approcci tecniche interessi diversi quindi è un po capite potete sicuramente capire che è un po difficile fare un corso che sia molto specifico e utile a chiunque quindi ho cercato di tenerlo un po più generale cercando di mostrare in questo corso le varie librerie principali le varie tecniche principali che python mette a disposizione e per insomma per creare un po un punto iniziale da cui poi ciascuno può specializzarsi un po e giocare un po quelle cose che più gli interessano quindi se siete dei ricercatori sicuramente vi risulterà utile poi magari riscrivere le cose che scrivevate di solito in MATLAB o in R e cercare di scriverle in python se siete invece più dei diciamo degli ingegneri del software o di come si chiamano dei data enthusiast quindi degli entusiasti dei dati quello che potete fare è applicare diciamo cercare di manipolare csv di manipolare immagini di creare qualche piccolo classificatore o qualche piccola python di analisi in python invece che in altri linguaggi vi condivido lo schermo così possiamo cominciare anche con le slide che ho preparato ok in realtà questa non è la prima slide perfetto quindi qua sotto sulla prima slide poi le avrete vi verranno messe a disposizione attraverso la piattaforma gar sì la piattaforma gar attraverso il portale dove c'è il corso potete raggiungermi comunque anche se volete attraverso twitter o attraverso linkedin con questi due handle che avete qua vorrei cominciare chiedendovi quindi cercheremo di utilizzare mentimeter come al solito cos'è per voi la data science per cercare un po' di capire che idee avete voi in mente per cercheremo di utilizzare il nostro principale interesse quindi come se il codice lo scrivo sempre qua quindi dovete accedere al link www.menti.com e dovete utilizzare il codice 17 59 97 ok questo è chiaramente aperto a tutti quelli che sono collegati in streaming anche da facebook non bisogna per forza essere attraverso connect ok vedo che c'è qualcuno che si riesce a connettere ok e quindi la domanda che vado a fare spero di aver messo abbastanza tempo per poter rispondere è in c'è semplicemente c'è solamente una domanda è fatta in modo che possiate veramente scrivere la prima cosa che vi venga in mente quindi cosa vi viene in mente se scrivete data science cioè se vi dico data science quindi la prima cosa che vi viene in mente quindi non risposte lunghe non cose estremamente complesse ma semplicemente una o due parole diciamo ve la preannuncio già perché essendoci il tempo così avete il tempo di rispondere o di prepararvi ok ci sono già una settantina di partecipanti ok ok forse è estremamente ok avete 20 secondi per rispondere 15 secondi per rispondere quindi ci ne ho 15 secondi per rispondere 15 secondi per rispondere ok ok perfetto ok queste sono le risposte non sono quelle di tutti i partecipanti ma è anche perché così non dobbiamo spendere troppo tempo a leggere tutte le risposte. Quindi, molti hanno risposto che analisi dati o analisi dei dati, è vero. Data science sicuramente è analizzare dati. Dati è sicuramente una parola un po' generica. Probabilmente ci viene tutti in mente una tabella, quando pensiamo a dati, però dati sono anche non strutturati, quindi non sono per forza tabelle, ma sono anche immagini. Quindi, possono essere anche testo, un articolo di giornale, un tweet, un articolo di Wikipedia, tutto quello che volete, possono essere dati. Sono dati anche i video, sono dati anche streaming audio, sono dati delle strutture dati un po' strane relative alla biologia, magari che non ti abbiamo bene in mente, però delle matrici di adiacenza o altre strutture un po' particolari, sono tutti dati. Abbiamo analisi statistica come risposta. Sicuramente una parte della data science è l'analisi statistica. Quindi, non so, dare cose più basi, è capire medie, varianze, cose più complesse, quindi capire distribuzioni, differenze tra distribuzioni, o fare modelli su base statistica dei dati che abbiamo. Non è solo quello, però. Data science si tratta anche, diciamo, il processamento dei dati, la gestione dei dati. Diciamo che data science si divide anche in data architect, data engineering, quindi come salvare i dati, qual è il flusso di, diciamo, di un sistema ad alto livello per l'analisi di tutti i dati. Quindi abbiamo una pipeline divisa in varie, diciamo, in varie analisi differenti, in varie step di processing. Quindi anche questo è data science. C'è qualcuno che non lo sa, e questo è ottimo, perché, insomma, in questo momento può sicuramente venire in mente qualcosa. Analisi di informazioni. Molto simile ad analisi di dati, informazioni, però, questo mi rimane dentro ormai dalle superiori, l'informazione è un dato con, diciamo, un qualcosa in più. Quindi non è un numero vasto, come magari uno può pensare, ma ha proprio un numero di dati. analizzare dei valori con dei significati dietro. Structure of the info, quindi capire la struttura delle informazioni, sicuramente capire cosa c'è e cosa non c'è. Acquisizioni e analisi dati, esatto, quindi non è semplicemente un'analisi, ma anche come acquisirle, come pulirle e poi come trattarli. Tutto lo scibile umano, ok? Sì, diciamo che possiamo creare dati ormai da qualsiasi cosa, possiamo avere le smart city, smart qualsiasi cosa in casa, un sacco di cose, possiamo avere gli smartphone, possiamo avere dati su qualsiasi cosa ormai, e quindi sì, ormai siamo, diciamo, tutto intorno a noi ci sono dati, possiamo analizzarli. Scienze dell'informazione, ok? Quello è un po' più, magari, legato un po' più anche a informatica, però sicuramente ha a che fare. Incrociare dati, è vero, abbiamo più sorgenti, cerchiamo di incrociarle. Conoscenza dei dati e analisi, ok? Imparare a sapere cosa c'è in un dataset o in più dataset, analizzarli. Scienza dell'analisi dei dati. Curve fitting, quindi, questo, trovare un modello, no? Un modello che spieghi perché i dati sono distribuiti in un certo modo. O magari per fare predizione di quello che succederà in futuro. Insieme di procedure per analizzare i dati. Sì, una riflessione molto informatica, ma sicuramente corretta. Intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è sicuramente qualcosa che ha a che fare con data science. ma non solo. Quindi, diciamo, è più la parte modellistica. Estrarre informazioni dai dati. Esatto, cercare di cogliere qualcosa che non si coglie a primo sguardo, no? Quindi, per esempio, utilizzare i dati per creare un modello che spieghi perché sono distribuiti così, o fare predizione del futuro. Manipolazione di grandi dati, sì, i cosiddetti big data. Che è sicuramente uno, diciamo, una delle parole che più sentiamo in questi giorni, in questi giorni, in questi anni, in questi ultimi anni, dappertutto. Quindi, queste quantità di petabyte di informazioni, di zettabyte di informazioni che vengono caricate ogni secondo, no? Avete probabilmente tutto in mente. Un'immagine in cui ci dicono quanti secondi di video vengono caricati su YouTube, quanti tweet vengono pubblicati, quante immagini su Instagram, quanti post di Facebook. Quindi, una quantità di informazioni enorme che viene generata, e non soltanto relativa a internet. Scienza dei dati. Estrarre un valore contenuto dei dati. Cercare correlazioni e pattern. Prendere decisioni dall'analisi. Quindi, una parte della data science, non si tratta solo di arrivare a avere un modello, ma avere queste analisi, questi modelli, per poi prendere una decisione, che è sicuramente fondamentale. perché non si è fatto semplicemente per averlo fatto, no? Ma bisogna riuscire a trarne un vantaggio, poi, un valore aggiunto. Mal di testa. Sicuramente è abbastanza una risposta, una buona risposta. Spesso chi si trova a fare data analysis si trova con mal di testa, per cercare di capire cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo. O con il codice che ha scritto, o con l'idea che aveva, o con qualche effetto strano che non si capisce dove è stato introdotto. Estrarre conoscenza dei dati. L'insieme delle tecniche per l'analisi dei dati, l'analisi dei flussi. Machine learning, apprendimento automatico, quindi costruire un modello direttamente dai dati, senza particolari nozioni di matematica o statistica, su cui ci si fa riferimento. Gestione dei dati, esatto. Data science non è soltanto processarli, ma è anche come gestirli, come renderli utilizzabili in maniera efficiente o rendere i sostanziali accessibili in maniera efficiente. Using data to study, quindi studiare sui dati. Fitting, come abbiamo già visto prima. Trattamento dei dati automatico. In un certo senso sì, quindi costruiamo delle pipeline in modo che possano essere trattati questi dati automaticamente, quindi abbiamo un flusso di entrata, un processamento e un risultato che è online costantemente. Questa è sicuramente molto interessante, perché... Questo è sicuramente interessante, abbiamo... Quindi data science diventa un po' il... diventa un punto d'incontro di varie discipline. Chi arriva più da statistica, da matematica, chi arriva più da ingegneria del software, che si incontrano e chi arriva magari da altre scienze ancora, che si trova a dover analizzare i dati proprio per bisogno, magari un biologo che fa più biologia, un certo punto di un esperimento ad altro, diciamo, throughput di dati, ad altro quantità di dati che vengono generate, si trova a doverle analizzare e ha bisogno di un data scientist magari. E quindi questo chiaramente ci pone davanti a diverse problematiche, campi eterogenei introducono interessi eterogenei e problematiche eterogenee, e che... è difficile farlo, diciamo, difficili così, i dati biologici, i dati di immagini, chi di immagini legate alla fisica, chi di immagini legate all'agricoltura o di dati legati all'agricoltura, magari come faccio io, chi si occupa più invece di gestione, quindi un data engineer, un data architect, come creare delle pipeline di processamento, diciamo, molto, molto, molto avanzate. Questo è sicuramente interessante, anche una citazione, a mezza battuta, ma con tanta verità, che un data scientist, a fin dei conti, non è nient'altro che un ingegnere del software che sa più statistica degli altri ingegneri del software, e uno statistico che sa più ingegnere del software degli altri statistici, che è un matematico che sa più ingegnere del software degli altri statistici, quindi c'è questa proprio connessione, questo punto di incontro tra bisogna sapere un po' programmare abbastanza bene, per sapere bene cosa si sta facendo senza fare dei danni, e però sapere anche un po' concetti di, perlomeno base di statistica o di modellistica che ci vogliono. Questo perché? Perché spesso, se sbagliamo a scrivere un programma di qualche tipo, non ce ne rendiamo conto subito, o meglio, ce ne rendiamo conto subito perché il compilatore ci dà degli errori, poi possono esserci dei comportamenti un po' strani, però uno se ne accorge facilmente. Nella data science non succede sempre così, nel senso che io posso fare un modello che non mi dà errori, dal punto di vista del codice, sembra funzionare, e poi in realtà fa tutt'altro. C'è una famosa storia, anche se sembra un po', non si capisce bene se sia inventata oppure no, però rende molto bene l'idea. All'inizio degli albori dell'intelligenza artificiale l'esercito americano aveva fatto un classificatore di immagini per riconoscere automaticamente se un cararmato era il loro o quello dei nemici. Avevano un dataset molto interessante, avevano immagini dei loro cararmati, chiaramente di immagini da catalogo, quindi in altissima definizione, e le immagini dei cararmati nemici prese sul campo, quindi a bassa risoluzione. Hanno costruito un modello che funzionava perfettamente, quasi 100% di accuracy, quindi riusciva sempre a capire se, data un'immagine, era di un cararmato amico o nemico. Usandolo poi sul campo si sorsi conto che non funzionava assolutamente e diceva che tutti i carri armati erano nemici. Questo perché? Perché il modello non aveva imparato a riconoscere il tipo di carri armato, ma aveva imparato a riconoscere se la foto era ad alta o a bassa risoluzione. quindi con una foto ad alta risoluzione tutte le immagini di carri armati amici erano ad alta risoluzione e quindi li aveva imparato a catalogare così. Al contrario, tutte quelle di bassa risoluzione erano nemici. Trovandosi sul campo avendo solo immagini a bassa risoluzione anche di carri armati amici per lui erano tutti carri armati nemici. Quindi bisogna stare attenti quando si lavora con il data science, con la modellistica per capire che deve assicurarsi che quello che si sta, diciamo, gli insights, le informazioni, il valore aggiunto che stiamo ottenendo anche per prendere poi decisioni, come qualcuno ha detto, se effettivamente diciamo abbia senso a tutto quello che è stato fatto. Perché Python? Per la data science. Perché è un linguaggio ad alto livello e quindi questo ci permette cosa? Ci permette di avere una prototipazione rapida del codice quindi possiamo accedere con chiamate ad alto livello. Cosa vuol dire? Abbiamo librerie che ci permettono di fare complesse operazioni con pochissime rive di codice e di, diciamo, avere un'idea e testarla subito. Se l'idea è sbagliata, come spesso può verificarsi, basta tornare indietro e non andiamo a magari buttare via un mese di lavoro o magari un paio di giorni. E in più ci guadagniamo in code readability. Se qualcuno ha corso, ha seguito il primo corso, quello di Python Base, o qualcuno scrive già in Python e si rende subito chat. Penso sia d'accordo nel dire che Python è un linguaggio più leggibile, più semplice da leggere e da comprendere senza per spendere troppo tempo proprio da una prima letta. Esiste un ecosistema enorme di librerie che si possono utilizzare e di, diciamo, di funzionalità che ci mettono a disposizione. Tra cui NumPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, che sono tutte librerie che poi vedremo pian pianino in questo corso. e in più c'è Jupyter, Jupyter Lab, per chi vuole. Jupyter è una tecnologia molto, molto comoda e ci permette di scrivere codice come se fosse un blocco degli appunti invece che un terminale o uno script, che spesso per gente che non è programmatore di formazione risulta anche più comodo. Python è sicuramente un'ottima scelta. Ce ne esistono sicuramente altre. R, Giulia, Scala, Matlab, che non ho assegnato qua. Tutti i linguaggi diciamo con vantaggi e svantaggi e metodi di utilizzo un po' diversi. R, per esempio, molto usato per statistica. Giulia, per l'analisi di serie. Scala, utilizzato per, diciamo con Spark, in condizione con Spark, per altri che si possono utilizzare per lo stesso scopo. Come dicevo, Data Science, e ci tengo molto a specificarlo di nuovo, è un topic enorme. Questo corso non è imparare, diciamo, come fare Data Science dal punto di vista. Devo fare un modello di machine learning come si fa e tutti i concetti che ci sono dietro. Perché spenderemo, penso, due corsi soltanto per fare una cosa fatta bene. Ma è, diciamo, un punto di inizio per farvi vedere quali ci sono, quali librerie ci sono, quali possibilità ci sono all'interno di Python e poi, diciamo, sviluppare le vostre capacità in autonomia proprio sui vostri interessi specifici. Quindi vedrete che anche quello che cercherò spesso di ripetere è di incoraggiarvi a dire se avete un CSV, se avete dei dati, se riuscite a recuperare qualcosa, provate a cercare di giocare con quelli, magari vi do degli esercizi, però potete farli su il dataset che preferite. Anche perché in questo campo ancora di più, se vogliamo, dell'informatica si impara a provarlo. Penso che passo più tempo a cercare su Google, su Stack Overflow come risolvere dei problemi che effettivamente a scrivere codice perché essendo ad alto livello libreria bisogna scrivere poche linee però bisogna anche capire cosa si vuole fare, cosa bisogna scrivere. Quindi si prova, si prova, si prova, si prova finché funzioni. Se alla fine di questo corso siete in grado di leggere, diciamo, abbastanza fluentemente il codice che utilizziamo per fare manipolazione dei dati e di visualizzazione che non vuol dire che lo leggo una volta e l'ho capito ma magari cerco di capire un po' con una prima letta e con una seconda lo capisco ancora meglio con la terza capisco cosa avevo letto male e lo corretto. Mi sento diciamo abbastanza sicuro di me nello scrivere ma soprattutto nel googlare nel cercare su Google problemi che ho relativi a Python per Data Science ma soprattutto ho voglia di fare di più e di imparare di più e di esplorare e di cercare di mettermi in gioco sia con cose più semplici che più complesse allora io sarò più che soddisfatto di come è andato questo corso. Quindi veramente sentitevi molto molto liberi di anzi incoraggiati non liberi ma incoraggiati di provare. Comunque c'è il forum sul piattaformo nel corso e insomma sono sempre disponibili per cercare di rispondere ai vostri problemi. Cosa facciamo oggi? Nel tempo che ci rimane cominciamo a vedere un po' gli strumenti che abbiamo gli strumenti un po' più base che abbiamo per fare Data Science. Quindi vi vedremo strumenti per scrivere codice Swann che probabilmente qualcuno di voi è già riuscito ad accedervi e Jupyter Notebook e Lab non c'è grande differenza dopo li vediamo. Dimenticatevi dei old data structures quindi quelle che abbiamo visto nel corso di Python base non è proprio vero che dovete dimenticarle stavo scherzando però dobbiamo dare il benvenuto a NumPy Array quindi sono degli array scritti mi si è disposita a una libreria chiamata NumPy che è appunto numeric scientific una libreria di calcolo scientifico per la gestione di dati. e se vi siete mai chiesti come costruire visualizzazioni di dati in Python e se vedrete insomma dopo il corso di oggi potreste anche capire che alcune visualizzazioni o su paper o su articolini che avete visto sono state fatte così oggi vediamo un Matplotlib una libreria penso sicuramente la più utilizzata e quella su cui sono costruite altre librerie per la visualizzazione di dati per la creazione di visualizzazioni in generale di un impatto ok cosa sono cos'è Swan e cos'è Jupyter Notebooks allora i Notebooks intesi come proprio i Block Notice sono dei quaderni su cui voi potete scrivere dei commenti potete scrivere delle espressioni matematiche potete scrivere segnarvi cos'è il risultato di un'espressione potete scrivere un po' quello che vi pare hanno cercato di realizzare la stessa idea per la programmazione quindi invece che avere un terminale un interprete o dover scrivere uno script da poi eseguire tutto in un colpo si è cercato di creare un ambiente in cui possiamo scrivere un po' per volta il codice diciamo molto alla R se vogliamo e avere insomma i risultati che diciamo un ambiente in cui abbiamo tutti i risultati intermedi che possiamo vedere rivedere rivisualizzare rieseguire celle precedenti non è chiarissimo ma lo vedrete quando lo vedete davanti a voi capite subito cosa sta succedendo quindi è una versione persistente dell'interprete di python cosa vuol dire vuol dire che non è che io eseguo qualcosa per cui le istruzioni sono andate e gli output li ho dimenticati ma mi rimane lì per sempre con per sempre intendo dire che se io salvo il notebook con tutti i grafici le statistiche tutto quello che volete che mi sono stati stampati portarlo in markdown in pdf in html in slide di html quello che mi pare mi piace e posso anche condividerlo con i miei colleghi o pubblicarlo su github e rimane tutto visualizzato quindi ora vi chiedo a tutti di andare su questo link swan open up to you university e di provare ad accedere creare le credenziali se non l'avete ancora fatto accedere e vediamo insieme come creare un gp per la prima volta quindi io sono già all'interno di sono già all'interno di swan potete andare e mi sono indicato da adesso potete anche utilizzare lo stesso mentimeter di prima per fare domande quindi stesso codice di prima stesso mentimeter di prima se ce l'avete ancora aperto potete scrivere qua le vostre domande non spenderemo troppo tempo a cercare di far andare suona adesso vi faccio vedere quello che bisogna essenzialmente fare ho già un account quindi sicuramente è un po' diverso da voi però ci sono due cose perché poi lo facciamo insomma offline è tutta una cosa che serve per gli esercizi quindi se non ci riuscite adesso non vi preoccupate avete il tempo di rifarlo offline ci sono due tecnologie in particolare una è churnbox questo è il logo churnbox e che dentro salva tutti diciamo è come un dropbox un one drive in realtà che vi salva dentro tutti i vostri file invece su swan potete creare dei progetti e creare insomma dei file di codice poi che utilizzeremo dopo vedo che c'è che non riesce a creare l'ambiente sì posso mettere link in formato testo ok allora se vado anche io sul link dopo che sono sloggata avete probabilmente da attivare anche l'account ok che vi diamo un termine server adesso per quando al primo accesso su swan credo che dovreste vedere adesso vediamo ok quando vedete la scritta configure environment come software stack io scelgo 96 python 3 in questa schermata in questa schermata e faccio start session ci metto un po' c'è qualcuno a cui ha funzionato swan vedo che a qualcuno funziona a me per esempio in questo momento non funziona quindi immagino che sia come dice anche mi scrive Andrea se è un problema diciamo momentaneo direi che non è un problema possiamo probabilmente nel pomeriggio possiamo riprovarci non è assolutamente un problema io creo io creo una versione locale di swan i concetti sono esattamente gli stessi che in realtà possiamo allora vedere anche adesso diciamo ok ok, allora, quello che facciamo ora è questo vi mostro, credo siete tutti in grado di creare un environment di python io creo un environment con pipenv e per farlo installo JupyterLab, che è la tecnologia che abbiamo visto che vogliamo utilizzare per il corso suon non è nient'altro che un modo, diciamo, online per accedere a JupyterLab o a Jupyter Notebook, diciamo per installarlo potete cercare JupyterLab e installazione vedete che è semplicissimo se utilizzate conda, basta installare conda install JupyterLab se utilizzate pip install JupyterLab se usate pipenv, pipenv install JupyterLab installo al volo quindi in una cartella nuova gli dico pipenv install JupyterLab e se non trovo pipenv me lo creiamo, diciamo, ci creiamo un virtualenv vi ricordo che se avete domande nel main drive potete scrivermi attraverso Mentimeter e perché installiamo JupyterLab o perché vogliamo utilizzare suon è che ci mettono a disposizione invece qui, come dicevo invece che avere, diciamo, come prima un terminale o uno script da scrivere su un editor di codice abbiamo un ambiente un po' più, diciamo, step by step ci permette di scrivere codice un po' alla volta di esplorare meglio i dati cosa che sicuramente funziona meglio all'interno del data science che mentre elaboriamo, mentre facciamo ipotesi mentre le testiamo, ci vengono in mente altre idee da provare, da testare ok, adesso vediamo, prima ci metto un attimo a installare, ma non troppo e mentre me lo installa, o mentre cercate di farlo andare ok Per andare su menti.com potete usare il codice 17 5997 Dopo aver creato Chanbox dovrebbe essere anche possibile andare, però comunque a me non funziona ancora quindi magari è un problema zionale ma attraverso il sito swan open up to you up to university dovreste poter accedere al ok qua mi finisce di installare le dipendenze quindi siamo pronti a partire diciamo in locale quindi ripetendo quello che abbiamo fatto è quello che ci mette a disposizione è un ambiente di Jupyter Notebook che ora impareremo a conoscere e che ci accompagnerà durante tutto il corso direttamente online quindi diciamo abbiamo ci basta un link per accedere al nostro account da qualsiasi dispositivo possiamo condividere l'idea in alternativa siccome suona alla fine dei conti utilizza semplicemente Jupyter Lab possiamo installare Jupyter Lab pipem install Jupyter Lab se utilizzate pipem se utilizzate qualcosa di altro quello che preferite ho creato un ambiente di pipem e ho installato all'interno Jupyter Lab quindi a questo punto quello che possiamo fare è lanciarlo così vi faccio vedere la differenza ottimo qui mi apro un'altra shell e faccio partire anche Jupyter Lab e a questo punto ho questo qui che è la mia schermata di Jupyter Notebook in cui posso creare un nuovo file posso creare un nuovo file di Python 3 che è un notebook vedete che mi apre una nuova schermata in cui posso eseguire il codice Python questo non è nient'altro che un file posso dargli un nome first notebook e qua abbiamo una schermata simile a quella che sarebbe una scritta simile a quella che avremo nell'interprete di Python nel quale io posso scrivere codice Python vedete che c'è anche il syntax highlighting acceso posso eseguirlo attraverso il tasto run tramite il tasto run o facendo shift enter e vedete che sotto mi stampa l'output della mia scritta posso andare a fare delle operazioni le eseguo e questa ognuna di queste è chiamata cella quindi una cella vedete dove c'è in 1 in 2 io scrivo codice nella parte diciamo con il background e lo sfondo in grigio e abbiamo l'output sullo sfondo in grigio posso fare vedete che qui ho scritto print e ho fatto il print di un'operazione e mi ha stampato qualcosa qui ho semplicemente scritto un'operazione e lui mi stampa il risultato come l'ultima cosa quello che è molto interessante è che se io adesso scrivessi altre centinaia di celle che non scrivo in questo momento tornando in su io ritrovo sempre lo stesso la stessa scritta lì esattamente che è comodamente navigabile in aggiunta posso anche dire ok posso rieseguire una cella per esempio dopo che qua ne eseguo un'altra 4 più 1 eseguo video 5 edite in 1 in 2 in 3 posso rieseguire la prima per vedere ma questo fa cosa faceva ah faceva questo o la modifico scrivo print anche qualcos'altro la versione in italiano del codice la rieseguo in 5 e mi stampa entrambe le cose e quindi vedete che possiamo rieseguire le celle quando più ci pare piace questo può anche introdurre i problemi se stare attenti però è molto utile insomma avere anche il numero che ci spiega che abbiamo eseguito questa è la cella 5 che quindi è stata eseguita dopo questa e questa che sono la 2 e la 3 detto questo la differenza con Jupyter Lab differenza media da Jupyter Notebook è un'interfaccia più nuova quindi vedete sembra un po' più più simile più a un editor o un IDE vedete che abbiamo sulla sinistra l'Explorer abbiamo il nostro first notebook che abbiamo creato solo nella stessa cartella quindi la tasto lavorando sui stessi file posso aprirlo vedete che ho la stessa cosa con il tema scuro in questo caso io ho impostato il tema scuro possiamo eseguire possiamo vedere i codici che abbiamo scritto è la stessa identica cosa abbiamo un'interfaccia schede nella parte superiore per accedere al vari notebook che abbiamo aperto quindi se lavorate in locale vi consiglio vivamente di utilizzare Jupyter Lab comunque Jupyter Notebook è sicuramente la parte la prima versione che è stata creata è comunque sicuramente molto valida in ogni caso ok il webinar è interrotto no non è interrotto si può usare indifferentemente anche Jupyter Notebook o è meglio Jupyter Lab sicuramente potete usare anche Notebook Lab è semplicemente più moderno come qualcuno scriveva in Jupyter cosa vuol dire che è più moderno vuol dire che ha un'interfaccia un po' più gradessa ha un'interfaccia scheda per passare da un notebook all'altro ma Jupyter Notebook va comunque molto bene e di base sotto sono la stessa tecnologia una domanda un po' off-topic che comunque rispondo Pipenv è preferito a Poetry per la gestione delle dipendenze non per forza immagino non conosco Poetry bisogna vedere le differenze per l'uno per l'altro io mi trovo comodo con Pipenv perché lo trovo semplice da utilizzare Poetry non ho mai sentito il bisogno di cambiare al massimo utilizzo Conda per alcuni progetti il comando Conda che ho utilizzato per installare il pacchetto lo potete trovare quando cercate come installare Jupyter Lab questa è la pagina diciamo della documentazione di Jupyter Lab o Jupyter Notebook che si voglia e potete trovare il comando è questo qua trovate nella parte di installazione che con install Jupyter Lab potete installarlo però nel modo in cui preferite il pacchetto o qualunque sia quello che utilizzate se avete già installato Jupyter in locale sicuramente potete utilizzare quello invece che suon tenete conto che se dovete condividermi il file per qualsiasi ragione potrebbe essere più complicato insomma accedervi però non ci sono problemi se volete utilizzare Jupyter in locale la differenza tra notebook e Jupyter Lab cosa ne pensi di Pycharm o Spyder sono due cose un po' diverse tra di loro Pycharm è un IDE quindi un Integrated Development Editor quindi Environment quindi un ambiente di sviluppo che ci permette di fare anche il check del codice e altre cose secondo me è molto orientato per sviluppatori software Spyder è più diciamo una versione di RStudio per Python quindi ci dà uno script per scrivere la shell e un po' le variabili che sono state dichiarate Spyder di solito è un po' diciamo contrapposto a Jupyter se uno si trova comodo io dei colleghi si trova molto comodo utilizzare Spyder è sicuramente un'ottima soluzione magari per chi viene da R si può trovare più comodo qual è il comando per lanciare Jupyter Notebook su Swann non esiste un comando per lanciare Jupyter Notebook su Swann se potessi ve lo farei vedere vi trovate dovete creare prima un progetto c'è un tasto più da qualche parte create il nome della cartella essenzialmente e poi all'interno create un nuovo file e all'interno cosa avete creato un nuovo file sulla destra sempre c'è un tasto con il più e che dice create python file mi pare una cosa del genere che vuol dire che crea un Jupyter che era alla fine un Jupyter Notebook quindi funziona già diciamo di per sé è già attivo una volta creato appunto l'environment con 96 python ok vediamo se non riesco non riesco del vantaggio sostanziale di Jupyter rispetto a maniera classica editor più python lo vedrete nel momento in cui cominciamo a scrivere qualcosa di codice si può utilizzare anche Google Colab sì è un'altra alternativa Google Colab al fine non è nient'altro che un Jupyter la tecnologia di Jupyter che gira però si ha l'accesso anche a Google Drive si viene salvato come viene salvato come file di Google Drive quindi può essere molto comodo anche utilizzare Google Colab ok bene proseguiamo andiamo sul mio first notebook e quello che faccio ora mi rendo conto che può essere difficile da seguire di utilizzare Jupyter per i fatti vostri mentre io spiego perché magari se avete due schermi può essere facile altrimenti può essere più difficile perché dovete continuamente cambiare scheda e non vedete il video se vi sentite all'altezza e volete provare assolutamente giocate mentre anche io scrivo codici su Jupyter comunque il video poi vi rimane vi rimarrà e comunque come esercizio uno dei primi esercizi che vi lascio per casa è di rifare le cose che abbiamo fatto questo perché spesso magari guardando qualcuno che le fa e che le fa diciamo da qualche bell'anno può risultarmi semplice scrivere direttamente bene alcune cose magari qualcuno può trovare più difficoltà poi nel rifarle e sicuramente il modo migliore per imparare è di riscrivere quello che avete visto come prima parte e la cosa interessante è semplicemente seguire quello che faccio bene un paio quindi della libreria che vi ho detto che dovrebbe un po' sostituire per quello che è la data science le librerie le strutture dati vecchie liste dizionari come dicevo non è verissimo sono comunque utilizzate però per proprio la memorizzazione di dati è molto più efficiente utilizzare non paio e vedremo il perché quindi come prima cosa chi utilizza suon ce l'ha già installato io invece che non sto utilizzando suon dobbiamo installare non paio per farlo molto semplice come vedete vi prendo install non paio se utilizzate con install non paio se utilizzate qualcos'altro comunque il nome è sempre non paio quando me lo installa come si importa non paio non paio non paio si importa con questa riga di codice import non paio as np import non paio l'abbiamo capito si importano così le librerie as np è diventato uno standard de facto di come si importa sempre negli script e negli not da queste sparte non paio perché perché è diventata praticamente una libreria essenziale di python e la utilizza praticamente chiunque faccia analisi di dati non paio è sempre importata per un motivo o per l'altro e il modo più è diventato ormai molto molto normale per chiunque legge la np e sa perché è non paio quindi in python potete importarlo anche non come non paio np però se lo trovate in giro lo trovate fatto così quindi lo faccio quello spiego diciamo che è semplicemente un rinominare non paio in np per avere una cosa un po' più rapida da scrivere anche perché si utilizza spesso eseguendo questa cella adesso probabilmente mi dà errore perché non lo trovo affinché non ha finito di installarlo quindi aspetta un attimo nel mentre posso spiegare perché non paio è così utile il motivo per cui è così utile ok il motivo per cui è così utile è che non paio è è una libreria python ma in realtà è sviluppata in c e fortran cosa vuol dire vuol dire che il codice di tutte le funzioni che andiamo a utilizzare in realtà non è codice python che come sapete essendo python interpretato essendo ad alto livello può essere diciamo non è molto efficiente ma essendo scritto in c e in fortran quindi è compilato non è interpretato con la parte di codice tutte le operazioni sono sono molto 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 più efficienti e vedremo tra pochissimo un esempio di cosa vuol dire questo e quindi una domanda per Besson ma come fa a essere scritta in c ma a essere una libreria python come avevo già spiegato nel corso diciamo nel corso quello di un autoprendimento in python si possono scrivere delle librerie che sono in un altro linguaggio in particolare in c per esempio in questo caso in fortran e costruire un binding quindi dei file di intestazione che permettono di avere chiamate da python in un'interfaccia python con un'implementazione in un altro linguaggio questo ci permette di scrivere di avere codice molto efficiente questo non è l'unico caso altri casi di questo sono per esempio sicuramente i framework per deep learning come tensorflow e i pytorch e altri che in realtà hanno un'interfaccia python per la comodità e la semplicità ma sono molto più per la velocità d'utilizzo ma per l'efficienza viene utilizzato C per installare un pi che ci rimanda a seppi install ok quello che si può fare ok qua vedete un comando di pip per installare diciamo molte librerie che sono utilizzate di base pip install non so si trova una versione più interessante per installarlo il modo più semplice è utilizzare pip install non pi o pip install non pi va benissimo dovete dovete stare attenti di essere nello stesso ambiente in cui state installando anche Jupyter se ci sono problemi di installazione preferisco non perdere tempo ora li guardiamo scrivete pure sul forum cerchiamo insomma di aggiustare un po' le cose comunque sono gli stessi concetti che abbiamo visto nel corso base per chi c'era quindi creo un environment installo poi all'interno i miei pacchetti quindi abbiamo NumPy cosa possiamo fare con NumPy? beh cominciamo a creare una lista tradizionale quindi voglio creare una lista dei primi dieci numeri probabilmente vi ricordate che io posso fare list range 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 ritorno un numeratore che va da 0 e lo stampa ok è esattamente il risultato che volevo la salviamo una variabile L ok a questo punto quello che faccio è creare anche un NumPy a partire da L da L come si crea un NumPy? np.array np.array è la chiamata per creare una libreria di un array di python e possiamo dargli dentro varie strutture dati in questo caso gli diamo la lista che abbiamo creato ok quindi np.array tra parentesi il nome della variabile cosa fa? NumPy lo ingloba e la differenza tra i due risultati è che nel primo caso è una lista nel secondo caso è un array che contiene questo vettore possiamo salvarlo possiamo salvare la variabile L ok abbiamo le due differenze a parte questa scritta array qua non vediamo nulla di diverso quello che però possiamo possiamo fare possiamo vedere cosa si può fare con NumPy è sommare la lista e l'array per sommare una lista abbiamo visto che esiste la funzione di python sum che prende tutta la lista e accumula tutti i valori il risultato è 45 quello che possiamo anche fare però è utilizzare il vettore A che se vogliamo provare a scrivere anche il type di A vediamo che è NumPy ndarray sta per n dimensioni un array ad n dimensioni quello che possiamo fare è scrivere a.sum e quindi abbiamo la somma dell'array il risultato è identico e probabilmente vi state ancora chiedendo perché usiamo gli array e le liste ora proviamo a fare una comparazione tra la velocità della somma degli elementi di vettori un po' più grandi di una collezione un po' più grande dei numeri perché chiaramente è più interessante quindi quello che facciamo è creare una lista dei numeri che vanno da 0 a 10 alla quinta la salviamo in L scusate questo numero è un float quindi bisogna convertirlo in intero ok 10 alla quinta è un numero è un floating point number non è un intero infatti se ne scriviamo 10 e 5 come notazione scientifica viene tradotto in un float e noi lo mettiamo come intero perché range vuole un numero intero come parametro quindi faccio un cast a intero lo eseguiamo ok abbiamo la nostra lista possiamo anche guardare i primi 100 numeri se vogliamo o i primi 10 numeri della nostra lista adesso ne sono possiamo anche creare come abbiamo fatto prima un array a partire dalla stessa lista chiamiamo A stampiamo A vediamo che già vediamo una piccola differenza in come ci si presenta l'output l'output si presenta così array vediamo 0, 1, 2 puntini puntini 999.997 998 999 quindi ci formate e ci presenta già l'array in un'area un po' più comoda un po' più visualizzabile la lista mi stampa verticalmente tutti i 100 numeri qui capite bene che se erano 10 alla quinta numeri poteva essere scomodo qui abbiamo un'idea di quello che si ora proviamo a fare la somma della lista ok è stato abbastanza rapido appunto è stato abbastanza rapido cosa possiamo fare per visualizzare la velocità di come uno è più veloce o più o meno veloce rispetto all'altro possiamo utilizzare una una funzione che ci mette a disposizione ai python che è la tecnologia con questo sostante a jupiter che è percento time percento time ci dice quanto tempo impiega ad eseguire questa istruzione lo eseguiamo ci mette 33 millisecondi ok diciamo che non è nulla giusto percento time a.sum se io lo eseguo mi dice che ci mette un millisecondo e quindi vedete su comunque un'operazione che comunque è molto rapida che è per chi se lo intende odn cioè devo vedere scansione di tutto la re una volta sola e far la somma farlo con un pi è comunque 33 diciamo quasi 30 diciamo serve più intorno e 15 volte 16 volte più rapido possiamo anche eseguirlo e se noi ingrandiamo ancora la lista quindi diventa 10 alla 6 vedete che da ci non e questa è semplicemente una scansione lo stesso risultato è una complessa e più diventa efficiente utilizzare un pi array ok vediamo se ci sono domande relative a questa prima brevissima introduzione relative a un pi array se creo un nuovo progetto aggiungo un nuovo file mi compare python2 è un problema sì perché python2 è deprecato bisogna utilizzare python3 se questa domanda è stata fatta da un utente che sta utilizzando swan probabilmente il motivo è che non è stato fatto partire il software stack non sei python3 ma è stato stack 96 credo sia quello la ragione se non fosse così magari scrivete attraverso il forum che poi cerchiamo di risolvere se non sono domande perfetto posso seguire ottimo allora altre cose che possiamo fare con un pi sono delle semplici statistiche che possiamo creare vedete che ho scritto una cella col cancelletto il motivo per cui l'ho scritta col cancelletto è che se vado in cima posso cambiare il tipo della cella invece che essere code quindi codice python può diventare un markdown un markdown vedete che mi calma il formato di questa cella e ci mette se io lo eseguo diventa un titoletto quindi potete cambiare il codice premendo sulla cella potete andare sopra modificare il tipo e utilizzare markdown invece che code non mi si ingrandisce ma vedete che poi diventa markdown semplici statistiche che possiamo fare con un pi sono la somma dell'array come abbiamo già visto possiamo fare anche la media a.min possiamo anche fare la calcolare lo scarto o la varianza eventualmente se sono interessato e vedete che abbiamo con una semplice chiamata a.min a.std a.var i valori di somma di media di standard deviation e di varianza quindi queste sono alcune delle piccole statistiche che si possono fare capite che si possono fare anche poi le differenze tra array diversi array si possono guardare le differenze di distribuzione questo è stato per dare veramente il minuscolo incipit di quello che si può fare andiamo a vedere perché NumPy diventa veramente comodo rispetto a altre strutture dati che ci sono in Python e sono il motivo sono i multidimensional array cosa possiamo fare con i multidimensional array beh creiamo un array con una dimensione e NumPy mette a disposizione delle funzioni per creare array di vari tipi io lo crei con vari valori io lo creo in un paio di zero di valori pieni di zeri e lo faccio grande dieci dieci sta a significare che stanno dentro dieci ok e noi possiamo guardare oltre a cosa c'è dentro in A possiamo guardare anche la sua shape quindi sapete che un vettore matematicamente ha una diciamo una dimensione appartiene ad R e dieci infatti vedete che ci dice che la shape di quell'array è una tupla e dentro c'è soltanto una dimensione singola di dieci elementi ora noi possiamo creare anche un array non di dieci elementi ma di dieci per di uno per dieci elementi cosa vuol dire creare un array scusate bisogna mettere la dimensione è una tupla ok quindi questa qua che vedete è la dimensione ma messa come una tupla la dimensione dell'array in questo caso vediamo innanzitutto cosa ha a è un array assomiglia molto a quello di prima che ho riporto qua vedete solo che in questo caso non c'è una singola prentesi quadra ma ce ne sono due ce ne sono due perché questa è una matrice è una matrice quindi se noi guardiamo la shape di questo array la shape è 1,10 che è chiaramente quello che avevamo detto cosa vuol dire 1,10 vuol dire che ha una riga e dieci colonne quindi se vogliamo proprio mettere così altrimenti ha la prima dimensione che è grande 1 la seconda dimensione che è grande 10 possiamo anche creare la stessa cosa invece che essere 1,10 la dimensione è 10,1 senza eseguirlo direttamente possiamo provare a immaginare cosa sarà il risultato se prima avevamo una riga e dieci colonne abbiamo dieci colonne scusate avevamo una riga e dieci colonne adesso abbiamo dieci righe e una colonna infatti la dimensione diventa 10,1 per l'area di A è un array infatti questo tipo vedete che sono dieci righe e abbiamo quindi è una lista di liste se vogliamo vederla alla fine possiamo anche creare un array di zeri che sia una matrice quadrata quindi 10,10 andiamo a vedere cos'è A a una matrice dieci volte dieci righe e dieci colonne questa è una chiaramente una matrice bidimensionale in un paio si possono creare i multidimensionali quindi vuol dire che possiamo avere tre, quattro, cinque dimensioni o anche di più con tre dimensioni chiaramente stiamo guardando un cubo con quattro dimensioni stiamo guardando un ipercubo anche se facciamo fatica a immaginarci o con cinque dimensioni diventano ancora più complesse gli array a quattro dimensioni spesso chiamati tensori perché si utilizzano in libreria come TensorFlow e PyTorch per il calcolo di diciamo i modelli di di perché abbiamo come si specificano le dimensioni in Python allora questo è il suo interno un attimo momento per guardare come funziona il punto di domanda con un byte è la cosa più utile che potete utilizzare sapete che se utilizzate il punto di domanda vi stampa la documentazione di quella funzione quindi ci apre la docstring la funzione zeros accetta il primo argomento che è shape quindi la la dimensione la forma del nostro del nostro array quindi questo shape dobbiamo darlo come un singolo elemento quindi diamo una tupla per esempio come ci spiega la documentazione shape of the new array per esempio 2,3 inteso proprio come una tupla oppure semplicemente 2 se è un valore solo possiamo anche cambiare il tipo quindi in un paio di array sono di diversi tipi sono omogenei non possono contenere cose di tipi diversi non possono contenere string e interi nello stesso momento quindi però possiamo specificare anche qual è il tipo con cui vogliamo il vettore per esempio qui vedete che sono tutti dei valori 0 punto perché sono dei float infatti faccio dtype dice che è un float64 se io le dico che il dtype che voglio un output è un np int scusate ho scritto male dtype mi dice che infatti l'output è int64 se io stampo a rispetto a prima è sparito il punto questi sono numeri interi non sono numeri con la virgola sono numeri diciamo reali teniamo pure come si accede agli elementi di questi array quindi beh possiamo accedere a elementi particolari creiamo una nuova sezione che si chiama mixing e siccome accedere a una matrice tutta di 0 non ci aiuta molto costruiamo un nuovo array questo è un array che è utilizzando la funzione arrange che si ispira alla funzione range di python quindi arrange di 10 cos'è? è un array con dentro 10 elementi possiamo crearlo di 16 elementi andiamo da 0 a 15 e possiamo anche fare questo ha una shape che è 16 possiamo anche fare un reshape quindi possiamo modificare la forma di questo array in modo che non sia semplicemente una dimensione e dirle che deve essere di 4 per 4 e vedete che viene fuori un array di questo tipo qua è una matrice dentro tutti i valori che vanno da 0 a 15 4 righe o 4 collante lo salviamo nella nostra a solito probabilmente qualcuno che prima stava scrivendo aveva fatto la domanda del perché utilizzo jupiter invece che script e non pi invece che script e terminale vedete che qua io se torno indietro vedo molto facilmente tutti gli appunti intermedi che ho voluto stampare e questa cosa qua posso anche esportarla e condividerla a un collega cosa che non posso fare col terminale ed è anche insomma ben formattata questa A adesso io posso accedere per esempio al primo elemento della prima riga 0 0 0 0 mi dice 0 sono acceduto all'elemento della prima riga e della prima colonna accedo all'elemento della della seconda riga sembra prima colonna questo mi ritornerà il valore 4 prima riga seconda colonna posso accedere anche all'elemento come facevamo con le liste dell'ultima riga l'ultimo l'ultima colonna abbiamo quindi il 15 col meno 1 accedo all'ultimo non ci ricordiamo quello che possiamo anche fare è anche fare uno slice come si faceva con le liste quindi posso per esempio selezionare la prima riga come si seleziona la prima riga ad 0 ad 0 con un solo indice vedete mi ritorna tutta la prima riga la stampiamo infatti viene fuori 0 1 2 3 chiaramente se avessi scritto meno 1 invece che 0 avrei preso l'ultima riga a questo punto possiamo accedere anche all'ultima colonna last column come si accederà all'ultima colonna beh siccome si accede per il riga colonna noi prendere l'ultima colonna o una qualsiasi colonna vuol dire prendere tutti gli elementi dalle righe quindi da tutte le righe e questo si specifica col due punti prendo solo l'ultima colonna 3 17 11 15 abbiamo ottenuto un array che è 3 17 11 15 cosa vuol dire questo? l'indice di colonna meno 1 abbiamo preso l'ultima colonna ok per ogni riga quindi per la prima riga prendo l'ultimo elemento per la seconda riga l'ultimo elemento per la terza riga l'ultimo elemento per la quarta riga l'ultimo elemento questa è una scrittura di NumPy un modo di fare indexing slicing di NumPy che è veramente estremamente comodo posso selezionare immaginate avere un'immagine presa come un NumPy array quindi tridimensionale posso prendere un singolo channel posso prendere tutto il thread o in generale prendere per esempio se ho un dataset di features prendere l'ultima feature di tutte le l'ultima l'ultima feature di tutti i sample oppure il sample quel sample particolare possiamo anche quindi selezionare una sottogriglia fino alla terza colonna fino alla terza riga e fino alla terza colonna se ci ritorna una piccola una griglia un po' più piccola che va da 0 a 10 che sono i valori delle prime tre righe e tre colonne 0 1 2 4 5 6 8 9 10 vediamo ora rapidamente alcune operazioni sugli array costruiamo due array il primo è i numeri da 1 a 10 da 0 a 9 l'altro è da 10 a 19 0 9 10 a 19 e diciamo che vogliamo fare la somma di questi due array non serve fare un ciclo su ogni elemento su ogni coppia e fare le somme basta semplicemente scrivere somma dei due array quindi cosa fa? 0 più 10 1 più 11 2 più 12 si chiama element wise sum quindi operation quindi un'operazione elemento per elemento quello che possiamo anche fare che risulta ancora più interessante chiaramente come somma funziona anche come strazioni moltiplicazioni divisioni quello che possiamo anche fare è costruire di nuovo una griglia la costruiamo in questo caso però di 6 elementi reshape la facciamo reshape 3 2 questo cosa vuol dire? vuol dire che abbiamo 3 righe e 2 colonne per inserire testo invece che codice posso utilizzare bisogna cambiare il tipo della cella se come vedete ci premo su questa cella e vado in cima il tipo è markdown invece che codice c'è anche una shortcut se voi premete m diventa markdown il t siccome ho utilizzato il cancelletto allora me lo mette in grassetto se invece non mettevo niente diventava semplicemente una piccola scritta se metto vari cancelletti diventa un heading un po' più piccolo ok noi abbiamo una matrice 3 per 2 e vogliamo sommare gli elementi di tutta la matrice questo l'abbiamo già fatto appunto sum ma ora noi vogliamo sommare soltanto gli elementi vogliamo fare la somma sulla riga quindi vogliamo fare l'operazione 0 più 1 2 più 3 4 più 5 e ottenere un array di 3 elementi per farlo si può fare la somma dannogli dentro una parola chiave che è axis uguale 1 vediamo subito perché a è un array di due dimensioni le dimensioni sono 3 e 2 queste dimensioni sono anche chiamate assi se noi vogliamo eseguire la funzione somma su diciamo le righe quindi voglio sommare tutta la riga ogni volta è di eseguire la somma non su tutto l'array ma sull'asse 1 per ogni elemento diciamo dell'asse 0 sommo gli elementi dell'asse 1 non è facilissimo ricordarselo io non lo ricordo mai provo e vedo qual è l'output se io so che voglio sommare tutte le righe voglio 3 output 3 numeri in output quindi aggiungo punto shape e vedo subito se mi viene 3 o mi viene 2 se mi metto asse 0 ottengo 2 questo può essere comodo in svariati momenti poi lo vedremo tra pochissimo appunto sum quindi ci permette di specificare in ogni caso posso anche mostrare cos'è axis output con axis 0 vedete che vengono fra i suoi due elementi e sono 6 e 9 6 e 9 è 0 più 2 più 4 1 più 3 più 5 ok quindi ok quindi abbiamo visto come viene eseguita questa somma quindi axis 0 vuol dire somma sull'asse 0 quindi l'asse 0 sono le righe quindi somma sulle righe quindi fai la somma delle righe 0 2 4 quindi sull'asse delle righe fai la somma di 0 2 4 poi 1 3 5 se invece esatto invece quando gli dico fai la somma delle colonne insomma per ogni righe lui farà la somma delle elementi della colonne quindi 0 1 2 3 4 5 e quindi il risultato è 1 5 tutte queste nozioni sono fondamentali adesso per capire quando vedremo nei prossimi corsi cosa succede con alcune funzioni che utilizziamo come gestiamo alcuni dati quindi cerchate scrivetelo poi a casa come esercizio li ripetete se non vi sono chiari cerchiamo di rivederle però diciamo che sono viste così non sarebbero probabilmente un grand che però viste in un contesto più ampio è sicuramente più ok ora ci spostiamo a fare plotting per fare plotting installiamo l'altra libreria che dicevamo quindi per chi usa suon e anche per chi usa penso colab dovrebbe essere già installato per chi deve sta utilizzando Jupyter nel locale potete fare ppm install o con install matplotlib quindi matematical plotting library ok anche questa libreria mentre si installa cominciano a scrivere il codice per importarla lascio scritto così vedete matplotlib per importarla esiste un modo diciamo un modo che si usa sempre così uno standard de facto potremmo dire per importare matplotlib si importa dalla libreria matplotlib si porta diciamo un sottomodulo che è pyplot un'interfaccia che ci permette di fare plotting in python e si importa come con il nome di plt quindi from matplotlib import pyplot as plt questo appunto la libreria matplotlib ci importa il modulo pyplot come nome plt perché è più comodo da scrivere e anche da memorizzare insomma plt è abbastanza semplice matplotlib è una libreria diciamo molto intuitiva per certi aspetti e molto complicata per altri nel senso che fare semplici plot è sicuramente molto facile e rapido fare determinati plot un po' più avanzati può essere più difficile noi comunque cerchiamo di vedere un po' le prime diciamo di vedere un po' l'inizio se state installando matplotlib ve lo lascio installare controllo le domande secondo me se sono adesso come si esegue il codice della cella sul notebook da tastiera da tastiera la shortcut è shift enter il shift invio che è sicuramente molto più comodo che andare a premere run ogni volta sì potete farli da collab senza problema senza problemi gli esempi non puoi avere supporto per i tipi di dati precisione ridotta o variabile float 8 e affini sì non puoi quello che mette a disposizione essendo implementato in C ci permette di avere i tipi di interi a 8 126 126 64 di avere il tipo wind quindi unsigned int quindi soltanto i positivi diciamo per avere un range diverso abbiamo i float non ricordo se sono float 8 sfogliere subito con mp. col tab dovrebbe darmi ok no abbiamo float 128 16 32 64 come tipo di dati abbiamo int 0 ok non so int 8 16 32 64 ok il int 0 è un è un long ed è penso che funzioni in modo da prendere in base all'architettura utilizzata sul sulla piattaforma che avete quindi per esempio alias on this platform io per esempio ho l'int 64 su questo computer ma il suo altro computer invece è un 32 e anche infine np uint andiamo su ok ora credo che tutti siate riusciti a installare matplotlib ok abbiamo plt per plottare cosa possiamo plottare? innanzitutto cosa faccio? creo un array ok quindi i soliti dieci numeri diciamo che non intuitivamente in questo momento ma diventerà rapidissimo facilmente imparabile da chiunque plt.plot ha plt liberia per fare i plot punto plot appunto crea un plot un grafico ha il mio array l'output è e vedete che in matplot in jupiter questo è molto comodo perché la figura ce la metti qui sotto crea una figura di circa 9 elementi per 9 elementi in cui si vede una linea retta cos'è questa linea retta? lui prende ogni elemento del mio array quindi da 0 a 9 e in posizione 0 trova lo 0 in posizione 1 trova lo 1 in posizione 2 trova il 2 e quindi mi mette i valori qua quindi in pratica noi potremmo annotare questo plot così scrivere aggiungerle un titolo che è my first plot lo facciamo con plt.title rieseguo e compare my first plot qui sotto e poi per capire meglio cosa c'è sugli assi possiamo scrivere punto y anzi x label label dell'asse x array index e plt y label la label l'etichetta dell'asse della y array values rieseguo e vedete che quindi abbiamo una linea retta array index array values ora un'interessante cosa è che matplotlib non ci specifica che noi gli abbiamo dato dentro 9 valori ma non sono per forza connessi cioè tra 0 e 1 non abbiamo non abbiamo valori non abbiamo valori di 0.5 per quanto qua sia rappresentato su questo grafico perché matplotlib fa un'interpolazione di punti possiamo anche fare un plot leggermente diverso aggiunge plt.plot e lui aggiungerà sulla stessa figura a e dargli dentro uno stile di come vogliamo plottare i valori di a per esempio vogliamo plottarlo con dei punti utilizzare dei punti invece che una linea quindi noi diciamo questa stringa qua sta a significare con la o sta a significare usa i punti e non le linee io plotto e di che in arancione compaiono propri punti del mio array rimane la linea sotto perché è quella plottata dalla prima istruzione e plotta sulla stessa figura ok proviamo a creare un array leggermente più interessante quindi sempre 10 elementi però lo eleviamo al quadrato quindi è un'operazione sull'array è sempre una element-wise operation quindi prendiamo un array 10 elementi e li eleviamo tutti al quadrato elevati tutti al quadrato il risultato è un array con i valori da 0 a 9 al quadrato 0, 1, 4 fino a 81 possiamo plottarlo? assolutamente sì la stessa scrittura di prima l'abbiamo plottato questa è la nostra parabola e quello che posso dirgli ok però non voglio vederla tutta unita voglio vedere solo i punti allora faccio così in questo caso vedo i punti in arancione e in blu la linea sotto se io commento la linea di prima mi rimangono solo i punti il motivo per cui sono blu è che utilizzerai i colori in un certo ordine ci possono anche specificare ok questo diciamo che matplotlib non è chiaramente tutto però è la base per capire che sicuramente fa capire che è molto rapido da utilizzare molto rapido da provare quello che avevo fatto che avevo preparato per questi ultimi minuti è di utilizzare di importare un dataset insomma qualche qualcosa che esiste già per fare questo con la libreria sklearn che non sto a spiegare qui in questo momento a cosa serve però dentro diciamo sta per shikitlearn è tutto un kit per le scienze diciamo per fare learning quindi statistical learning machine learning tutta una serie di operazioni per estrarre informazioni dai dati molto matematiche molto statistiche e una libreria ad alto livello che è sempre molto spesso utilizzata che per questa lezione ci mette a disposizione dei dataset in particolare uno l'iris dataset un dataset fatto di 150 sample di tre tipi diversi della pianta iris sistosa vitogenica e qualcos'altro e con quattro variabili che sono la lunghezza e la larghezza dei petali e dei sepali mentre stai stavando allora importiamo anzi from sklearn punto datasets quindi dal modulo datasets import load iris questo funziona ok perfetto mi ha importato la funzione load iris io ora chiamo guardo la documentazione di load iris per esempio quello che mi fa mi dice che carica e mi ritorna l'iris dataset per fare classificazione abbiamo tre classi abbiamo 50 sample per classe quindi in totale 150 e abbiamo quattro dimensioni e le feature che abbiamo sono reali e positive c'è tutta una spiegazione molto dettagliata se la cercate sul sito di sklearn e in ogni caso la utilizziamo e la mettiamo dentro alla variabile iris se noi accedete a iris punto data vedete che notiamo che c'è un array quindi abbiamo un dataset utilizzato per esempi su calcoli scientifici non tanto distanti da esempi reali se noi facciamo un punto shape come facciamo prima vediamo che è 150 di rigola 4 150 cos'è? 150 è il numero di di righe 4 le 4 feature che abbiamo larghezza e lunghezza dei 4 di due cose dei petali dei seppali quindi un totale di 4 si possono plottare questi dati? si, si possono plottare visto che mancano 5 minuti non non vediamo in particolare come può essere utilizzato questo iris dataset però siccome però penso che sia molto importante che lo facciate per casa vi lascio un notebook con anche il risultato di quello che ho fatto io quello che potete fare è sicuramente provare a eseguirlo per diciamo in modalità da autodidatta e cercare di capire cosa sto eseguendo poi rivediamo assieme le risposte che avete i dubbi che avete alla prossima lezione nella prima parte quindi passiamo alla slide degli esercizi molto rapidamente sì Sheetlearn è disponibile per conda vedo la domanda in chat ok esercizi rifatte tutto il notebook di intro specialmente per chi non è riuscito a farlo in questo momento per fare le limitazioni per esempio non ho uno secondo schermo su cui avere il video da una parte del mio notebook sull'altro questo perché guardare qualcuno che lo fa è sempre semplice capire veramente cosa sta succedendo può essere più difficile facendolo da soli e incontrando una marea di errori poi si capisce veramente cosa succede e si impara provate a plottare a ray multidimensionali dovreste vedere multiple linee cercare di capire cosa state vedendo ok per esempio fate la range che abbiamo visto prima fate un reshape e poi provate a plottarlo e cercate di capire cosa succede fate altri plot quelli risdata e non solo rispetto guardate sicuramente quello che vi mando io cercate di capire cosa sta succedendo e poi provate a fare altri plot fate per esempio histogrammi o cose del genere però la chiave sicuramente è sperimentate cioè se arrivate a venerdì e non avete domande non avete dubbi vuol dire che qualcosa non è andato bene ok cercate di sperimentate scontratevi con gli errori e vedete quello che non funziona vi lascio anche un link che penso sia abbastanza interessante che è non pai 100 ci sono un tot di esercizi che si possono fare 100 esercizi sono un pai una stella due stelle tre stelle onestamente ce ne sono alcuni che trovo difficili di fare perché sono veramente per sviluppatori della libreria secondo me quindi non è importante che riusciate a farli tutti provate a dare un'occhiata magari qualcosa di interessante lo trovate specialmente quelli da una stella visto che comunque siamo a un livello abbastanza iniziale detto questo controllo se ci sono domande per i minuti qui ok ok è corretto installare da dentro Jupyter come ad esempio import sys sys accessible meno mpp install shiki to learn credo che import sys sia su una linea diversa dall'altra credo di sì onestamente non l'ho mai eseguito così io se devo installare una libreria da Jupyter lo installo con direttamente il punto esclamativo install la libreria quindi per esempio questo o ppm install il punto esclamativo all'inizio sta a significare che utilizzo utilizzo il libreria diciamo è un comando che faccio eseguire a in realtà al sistema operativo non a python e poi dopodiché utilizzo il comando o con install o ppm install col python meno pip quello non l'ho mai fatto immagino se non ha problemi come come sintassi sì funziona allora è giusto il link lo troverete sulle slide quindi non c'è problema non c'è bisogna scriverlo ora dopo le carichiamo e vedete perfetto io ho finito ci ritroviamo sicuramente sul forum spero e ci rivediamo ci vediamo alla prossima lezione con una parte su domande e risposte quindi arrivate pure con un sacco di domande a cui sono felice di rispondere visto che questa è la parte più importante del corso visto che anche fatto a distanza può essere difficile interagire durante la la lezione a a a Grazie a tutti.